Oggi ci troviamo alla Madonna del Monte, a Marciana, perché i ragazzi, la gente di Pedalta, che è un'associazione che si interessa della pulizia, dei sentieri, è venuta a fare una pulizia alla Madonna del Monte, non è che fosse stata in condizioni tragiche, però questa pulizia sicuramente dà un aspetto diverso, è una cosa che questi ragazzi fanno continuamente, hanno ripulito il sentiero che va sopra alla Madonnina, quello che va al cavallo di Napoleone e stanno pulendo la via Crucis e fra l'altro continuano poi verso Serra Ventosa, in sostanza un lavoro incredibile, lo fanno con i loro mezzi e con la loro passione, guardate quanta gente c'è, poi fanno un bel fuoco, un po' di arrosto, fanno merenda e così parte loro la domenica e il sabato fanno questo lavoro, bisognerebbe farlo anche negli altri comuni, qui ci dovrebbe dire grazie a alcune persone che hanno intrapreso questo servizio, lo possiamo chiamare servizio perché non solo sono appassionati della loro terra, ma soprattutto hanno delle aziende, degli alberghi e allora devono tenere pulito perché quando arriva il turismo possa fare le sue camminate lungo i sentieri e soprattutto possa trovare zone di culto come questa, dove viene migliaia di persone pulite e in ordine. In occasione di questa pulizia fatta dall'Associazione Pedalta qui alla Madonna del Monte, facciamo anche questi alberi, gli alberi che fanno parte degli alberi monumentali, perché qui non si può parlare altro che di monumentali, pensate questo castagno a 15 metri e 50 di circonferenza a un metro e 30 d'altezza e la parte bassa dove c'è questo muro, un muro secolare anche questo, sicuramente è molto più grande, non si può dire l'età che ha questa pianta, perché la chiesa è stata costruita nel 1100, però sembra che questi albi siano più vecchi addirittura, ma c'è un dubbio perché vedendoli in fila sono quattro, forse quando sono stati mesi è stato per arredo qui alla chiesa, ma io credo che questo sia proprio un esemplare che bisognerebbe cercare in tutti i modi di metterlo in condizioni di essere più curato. Vedo qui che ci sono dei punti dove il marcio sta entrando dentro la pianta, forse andrebbe curata col mastice, con qualcosa perché potesse campare di più, ha campato tanto diciamo, però è un esemplare che chiunque lo vede rimane per forza a bocca aperta. Ha tre rami grandi, uno qui che ha 6 metri di circonferenza, questo grande qui che sono 8 metri di circonferenza e poi c'è tre rami sopra grandi che ancora fa dei maroni grossi così, non c'è una grande chioma, non c'è una grande chioma, comunque è una chioma di 13-14 metri che è bella, andrebbe visto e ci torneremo a farlo in quel momento quando c'è tutte le sue foglie. Per finire voglio andare proprio a far vedere un albero, un castagno che c'è dalla parte nord, cioè dalla parte dell'Aquila, questo è l'albero apponente, è il castagno apponente, guardate che bellezza che è questa pianta, non ha la circonferenza di quello grande che c'è di là, solamente 10 metri, però è un albero veramente eccezionale. Se uno fa una passeggiata e vuole veramente una cosa bella, deve venire a vedere queste piante. Arrivederci alla prossima puntata.